La staglia è volata qua, mi dispiace, non dà una famiglia, salva assolutamente. Grazie per quello che fate, fuori dai discorsi ma è veramente un ringraziamento che mi viene dal cuore ma anche da quello che ho imparato da voi in questi due anni e mezzo in cui ho avuto l'onore di essere il ministro della difesa, il ministro delle forze almate, il vostro ministro. Davvero siete l'esempio delle virtù migliori del nostro paese e questo esempio lo portate in giro per il mondo.